E' un'altra parte, si arriva sulla statale, quella che fa poco per l'altro, qui si trova da Rossum, anche nel tribano, non ce l'ha'? Eh? Fortsetto! Il clima è da almeno due settimane, perché quando hai detto che faccia il lavoro, toti non ce l'ha! Che marrone! Marco Dio! Fermatevi l'autogrill Eh ma, sono con la tuta, la tua matica Allora, la tua matica Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.